Nell'attesa di un Consiglio federale che questa settimana potrebbe stravolgere il format dei campionati e lo status dei calciatori, l'Avellino sta iniziando a guardarsi intorno. In particolare lo stanno facendo Salvatore Disomma ed Ezzolino Capuano, che da direttore sportivo e allenatore in pectore non possono di certo permettersi di attendere le calende greche. Il loro colloquio a distanza con la regia di Giovanni D'Agostino corre sempre sul filo del telefono con decine di chiamate quotidiane. In attesa di sedersi al tavolo del patron, i discorsi e le ipotesi su quello che potrebbe essere l'Avellino del futuro in C, C-Delete o addirittura Serie B, tutte ipotesi sul tavolo, diventano inevitabili. Un processo naturale, anche perché al pari di tutte le squadre del panorama professionistico, sono in questa fase iniziati i primi sondaggi con calciatori e agenti, informazioni che per la verità sono spesso richieste soprattutto dai procuratori. Diversi, anche in casa Avellino, sono stati quelli che la scorsa settimana, prima di prendere in considerazione altre offerte, hanno interpellato i dirigenti Irpini per capire le intenzioni dell'Avellino. Per scoprirlo, ad eccezione di quanti Capuano ha verbalmente già annunciato di voler confermare, ovvero Charpentier, Raezza, Parisi, Garofalo, Silvestri e il vincolato Ferretti, quasi tutti dovranno attendere le decisioni del Consiglio federale e il successivo incontro della proprietà con Disomma e Capuano. in cui, logicamente, sarà stanziato pure un budget di spesa per quello che sarà l'obiettivo. Nell'Emore, dopo aver fissato con gli agenti di Charpentier un incontro per fine mese, Disomma ha iniziato così a interloquire con Francesco Iovino e Matteo Coscia, che curano gli interessi di Giuliano Laizza. Il 26enne partenopeo, 27 partite, fino allo stop, è tra i pochi over che tecnico e direttore sportivo vorrebbero confermare, anche perché nel corso della stagione si è rivelato eclettico, duttile, ma soprattutto attaccato alla maglia, come dimostrato nelle partite in cui ha giocato persino col setto nasale fratturato, particolari che per Capuano e Disomma hanno fatto la differenza.